Un episodio veramente brutto che turba e tocca la mia serenità e che mi fa aprire una profonda riflessione perché non si può essere amministratore di una città, lavorare 10 ore al giorno da solo in mezzo alla strada e poi essere aggredito in questo modo. Credo che sia anche andata bene perché potevo anche non essere qui a raccontare questa cosa, è una cosa brutta veramente. Spero che non vi sia niente di fomentante dietro, però ho tanti interrogativi nella testa che riferirò agli inquirenti, ho tante cose in testa che mi fanno pensare, che mi fanno porre interrogative e che porrò e girerò questi interrogativi anche agli inquirenti affinché si vada a fondo a questa vicenda che può sembrare un episodio isolato di una persona che aggredisce un'altra persona così, ma non lo so. Francamente in questa fase non sto bene quindi non mi sento di dire altro.